Dopo soli tre mesi di ospedale, il primo trapiantato facciale polacco è rientrato a casa. I medici del centro oncologico di Gliwice, in Polonia, avevano impiegato 27 ore per eseguire il delicato intervento e sono riusciti a ridare un volto ad un operaio 33enne che era rimasto gravemente sfigurato. Si è verificato un grande rischio senza precedenti in analoghe operazioni. Non avevamo la giusta immunocompatibilità e il giusto antigene per l'istocompatibilità. Per esempio, durante il primo trapianto, che era stato eseguito in Francia, 5 o 6 antigeni erano compatibili, mentre nel nostro trapianto erano compatibili soltanto due, quindi il rischio di rigetto era veramente elevato. L'unicità dell'operazione sta nel fatto che è stata eseguita a brevissima distanza di tempo dall'evento traumatico che lo ha reso necessario. I trapianti facciali sono molto rari e complicati, con procedure che richiedono a volte mesi, se non anni, di preparazione. La difficoltà è stata data dal fatto che è stata la prima operazione del genere realizzata in condizioni d'urgenza. Il tessuto era stato così danneggiato che non sarebbe guarito fino al momento di un'operazione programmata. Nei precedenti trapianti facciali, fatti nel resto del mondo, i corpi avevano avuto il tempo di essere preparati per il processo della complessa operazione. Il paziente ha fatto enormi progressi, può leggere, sentire i sapori, un po' anche gli odori. Resta difficile poter parlare perché i muscoli facciali hanno bisogno di tempo per tornare ad essere mobili. Dal 2005 ad oggi sono state trapiantate così in tutto il mondo circa 24 persone.